Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno avuto una lunga storia d'amore, che è stata suggellata da un matrimonio da favola. Si sono incontrati per la prima volta più di 15 anni fa, in una discoteca a Milano, quando lei aveva 24 anni. Dopo qualche giorno decisero di vedersi a Roma e da quel momento non si sono mai più separati. È nato un sentimento così forte che ha portato prima al sì nel 2008 e poi cinque anni dopo alla nascita del primo figlio, Nathan Foucault. Nel 2017 si sono, però, ufficialmente separati. Dopo la rottura hanno continuato a mantenere un rapporto sereno e amorevole. Sono spesso insieme, con il proprio figlio, in momenti importanti di famiglia. Di recente, ad accendere ancora di più il gossip è stata l'ultima foto pubblicata sui social dalla Showgirl. Nell'immagine dà un bacio sulla guancia al suo ex marito, mentre il suo bambino si trova davanti alla torta, pronto a spegnere le candeline. Elisabetta e Flavio hanno passato in compagnia il compleanno del loro primogenito, che ha compiuto quattordici anni. Hanno quindi organizzato una bella festa e hanno ripreso, sui rispettivi canali social, alcuni momenti. I fan sono al settimo cielo, che ci siamo un ritorno di fiamma?